Era metà degli anni 80 e con gli amici della compagnia facevamo le gare chi aveva il motorino più veloce. Tutto è cominciato da questo Cambridge Cobra con il quale facevamo le volate e da qui è cominciata un'avventura straordinaria. Dopo aver vinto il campionato europeo nel 1996 ho deciso di fondare il team LCR e di lì a poco sono arrivate le prime vittorie. La mia carriera sportiva è terminata nel 2003 con la vittoria al Mugello ma i successi del team sono continuati anche in 250 e in MotoGP sino a collezionare 82 podi di cui 24 vittorie. Io penso che nello sport così come nell'impresa non esistono segreti particolari. Prima di tutto bisogna essere capaci a sognare in grande, definire in maniera molto chiara e vivida i propri obiettivi e poi essere disposti a lavorare duramente. Ma il fattore più importante per raggiungere delle vittorie, per avere successo, sono le persone. È fondamentale costruire un team affiatato, capaci di lavorare assieme per raggiungere l'obiettivo comune. Abbiamo trovato in Comet lo stesso spirito e gli stessi valori che contraddistinguono la nostra storia. Auguri e complimenti a Comet per questo splendido traguardo dei 60 anni di attività. Il team LCR è fiero di essere al vostro fianco.